buonasera eccoci di nuovo qua come avete quello che avete appena visto è il nostro piazzale guadagnato in vent'anni di sudore anzi 21 ci ho passato quasi metà della mia vita su queste su questi mezzi ora di questi tempi il tempo a me non mi viene detto quando si facevano gloria cioè proprio se è così non mi viene o faccio un argomento magari buonasera se qualche volta mi mandano di giorno no no sempre la sera sempre la sera però scusa un attimo buonasera eccoci di nuovo qua quello che avete appena visto è il nostro piazzale sudato guadagnato in vent'anni anzi 21 di lavoro onesto aspetto che tu finisca la parola precisa qua notte dai vai così con il braccio con sete va bene si si no muoviti un po po si si no ma proprio si ecco il bianco 3 mila volte perché viene il sole giallo poi va via diventa celeste e ora rivene scuro scuro buonasera eccoci di nuovo qua quello che avete visto è il nostro piazzale è guadagnato in vent'anni di onesto lavoro sudando per quasi anzi 21 anni il vecchio babbo è una più di moda il polizzi si facevano gloria del di essere nuovi invece va bene però loro avevano una ragione loro si vergognavano del passato noi abbiamo lavorato onestamente loro si vergognavano perché avevano lavorato male mettendo di mezzo la gente non si è messo di mezzo nessuno non è onorato è la nostra forza essere qui e in questo momento in cui c'è una selezione anche il nostro settore come in tutti i settori di coloro che hanno ben lavorato e noi non solo ci siamo mantenuti come gli anni scorsi ma anzi ci siamo ampliati col piazzale con nuove marche anzi con le migliori marche sul mercato europeo laica c e arca in genere ma una cosa importante che effettuiamo sempre il il cazzotto nel capo più a metà e questo è l'interno della caravelle vedete la bella rifinitura dei mobili in legno con bel colore chiaro scusa e questo è l'interno delle roulotte caravelle come vedete sono ben finiture ben infinite con dei bei mobili tesoro no via no 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 non si vede no ecco questo ma se non si vede voglio dire ecco i miei gioielli fiammetta buonasera signori eccoci di nuovo qua il solito baci per presentare i suoi gioielli una è nascosta dentro fiammetta niente io non fosse neanche sottile come ti ammetti fiammetta il solito baci per presentare i suoi gioielli ecco i miei gioielli questi due oddio questo è più che un gioiello è un tesoro è un tesoro è un tesoro la mia fiammetta vero amore sei un tesoro vero questo è un gioiello ma te sei un tesoro ecco la bimba ecco la bimba ecco la bimba vai questo è veramente il gioiello dell'arca e l'arca come sapete da tanti anni è a cascina guardate la linea il metallizzato zanzariera con porta una cosa eccezionale è il wc una cosa eccezionale è il wc che si può adoperare in due maniere il serbatoio grande che serve da wc normale nautico oppure con questa cassetta che si può togliere nella stessa maniera si può svuotare